Attenzione ragazzi! Abbiamo il Seer e il Rinnegan su Clash Royale con un cesto opening! Lì puoi vedere le battaglie più belle di Clash Royale, ma devi raggiungere l'Arena! Cosa è questo? Clash Royale è disponibile per il download sia per iOS che per Android! Cosa è questo? Si sblocca l'Arena 1! Cosa è questo? Apri le casse! Apri le casse ma tagliamo! Se trovi il draghetto, guarda che mincazzo! Lui ha trovato il cavaliere! Sì naturalmente ho appena aperto perché è giusto! Adesso seguirò le istruzioni! Tappa lì! Tappa questo! Oh miglioro! Questa sono 5! Cavaliere a livello 2! Rarinegan! Il nobile! Quanto hai il cavaliere? Al 4? Al 7? Apri le casse! Gemma! Gemma! Oro! Tenaro! Cavalieri! Moschettiere! Carta rara! Perfetto! Apriamo di nuovo un'altra! Ok qui abbiamo oro! Carceri! Perfetto! Moschettiere! Apriamo un'altra! Subito! Dai da che non trovi l'orda! Drago! Da trovo il drago! Da trovo il drago! Oh hai trovato l'orda di scheletrini! Carta epica! Indacest ragazzi! Come inizio! Niente male! Ah! Ah! Me l'hanno già messa! Potenziali moschettiere fortissimo! Sì! Ok! Va bene! Quindi adesso vedremo Rinegan in azione che battaglierà contro altri giocatori appena iniziati! Novissi di Clash Royale! Beh ragazzi abbiamo finito la fase di addestramento quindi abbiamo altre due casse di legno da aprire! E poi vai in battaglia direi no? Aspetta aprire! Vediamo un po' allora! Oro! Ok come sempre! Oro! Gemme! No! Carta freccia! Carta freccia! Il mini pecca ha sbloccato ragazzi! Ha sbloccato il mini pecca! Va bene! Drago! No! Cavaliere! Bombarolo! Che bello il bombarolo! Potenzia subito per il bombarolo eh! Eh! Poi faccia potenziarlo! Almeno il bombarolo è fortissimo ragazzi! Il bombarolo se ce l'avete potenziato! Molto molto! Scusami! Io sai che sono il novice di questo! Ma tu sei fine! Tu sei reale! Io sono regalmente più in poi momento di te! Ma volevo chiederti una cosa! Sì! Cioè! 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 Non c'è niente! Non ho niente! Che schifo! Adesso tu devi attaccare uno online! Vogliamo vedere! Potenzia qualcosa altro! Potenzia quello che puoi potenziare! Potenzia tutto! Tutto! Adesso vediamo cosa hai imparato! Allora! Allora! Non mi piace! Non mi piace già che non porti quel gigante! Allora hai fatto subito così! Butti due arcieri! Perché così ce lo spaccamo uno lì pronto! Oh! Oh! Vuole subito colpirti la torre! Boh! Ma è una roba stupida! Stupida! Ok! Dai attenzione! Guarda che muoiono quei arcieri! Oh! Oh! Moschettiere! Molto forte! Attenzione! Moschettiere! Oh! Orda di scheletrini! È gigante dall'altra parte per distrarre le truppe! Esatto! Lui va a difendere da quella parte! Perde tempo! Perde tempo! Lì! Ha perso risorse anche! Io ti consiglio di... Attenzione! Ha messo le frecce! Perché ha messo le frecce? Non lo so! Oh! Oh! È forte il cavalliere! Il cavalliere è forte! È forte! L'hai visto? È forte! Non è peccato che non è il barile! Se l'avessi già tirato, vero? Esatto! Subito lo avrei tirato! Solo barili! Vabbè solo quello io! Ma guarda che la butti giù! Oh! 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 Non bastano le frecce per uccidere il moschettiere! Oh! Che balordo! Che balordo! Che balordo! Che balordo! Che balordo! Muore da solo quello dì! Si ma che... Bravo! Tanto poi da solo... Il poparolo da solo... È bello! Per usare le truppe difensive... Oh! Guarda! Si... Si ignora con i giganti! Che cosa metto? Questo! No! Butta gli arcieri! Vabbè dopo metto anche quelli! Gli arcieri per firmare il gigante sono potentissimi! Perché gli arcieri sporrono un po' a distanza... Quindi... Diciamo... Uccidero abbastanza velocemente il gigante! Attenzione! Uh! Uh! Non ti hanno ucciso gli arcieri! Guarda che culo! Di culo! Di culo! Di coda! Di posteriore! Di posteriore! Attenzione che c'è il cavaliere! Tu cos'hai tirato? Frecce! 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 Ok bravo! Anche tu e le frecce! Oddio! Ok attento! Io ti consiglio di schierare! Buttare via il cavaliere! Vetti il cavaliere... No! Esatto lì! Allora subito il gigante! Vai subito il gigante! Perfetto! Perfetto! Bombarolo! Oh! Guarda gli scheletrini! Guarda gli scheletrini! No! Guarda gli scheletrini! Guarda gli scheletrini! Eccolo! Ok! Ok perfetto! Mi piace assai! Che sei messo lì? Bomba infuocata! Perfetto! Non è che ce n'ha solo lui eh! Guarda 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 il cavaliere! Guarda che arriva il cavaliere! Il cavaliere bombarolo! Il cavaliere bombarolo! Il cavaliere bombarolo! Dai! Ancora un colpo bombarolo! Ancora un colpo! Non ci credo! Frecce! Frecce! No! Sulla torre! Sulla torre! Dai metto questa su! Mio dio! Sulla torre di un lontano! Stai tranquillo! Ti pareggia adesso! Stai tranquillo cosa? T'asera ma questo no! No no! Palla di fuoco! Palla di fuoco! Fireball! Barapapapapapapa! E due stelle per Rennigan! E va a vincere! Meritatamente la prima partita di Clash Royale! Parfapapa! Ok! Mini pecca al posto delle frecce! Vai battagliamo Rennigan! Battagliamo! Poi anche una Cassafree da aprire comunque Alla fine l'apriamo Allora, abbiamo assassini 1711 Grazie, grazie Grazie Oh, ti sta distraendo Ti ha distratto a parlare E lui ti ha schierato il gigante In fame Bomba rollo per la strega Ma perchè lì? Eh ma si, non lo devi mettere un po' più niente Bomba, Fireball Fireball, uccidi tutti Fireball Perfetto Ma come l'ho fatto? Eh, ti ho detto io Forte, forte, è forte la strega Qua è molto forte la strega Ma anche lei ha il mini pecca Anche lei ha il mini pecca Anche lei, anche lei Ella ha il mini pecca Ella ha il mini pecca Certo, scusami, sono dietro di un co Oh, è forte quel mini pecca Guardalo, guarda quel mini pecca Guarda quel mini pecca Dov'è? Già livello 2 così senza niente Allora, da quella parte Mi consiglio di mettere il bomba rollo Vai di bomba rollo Si, ma più lontano Perché non metti sempre così vicino alle fronte Perché io sono fatto così Tu sei così, tu sei lì e... Senti, è la prima volta che gioco Affronti a muso duro Affronti a muso duro Ma no, aspetta Metti anche il cavaliere Aspetta Guarda quel pecca la, vai a difendere, quel pecca la butta giù la torre Si, 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 si Ok, ok Butta, butta... No, non riesci Quella va giù, perfetto Allora, facciamo così Metti l'ordano di scelettrini a fermare quel pecca assolutamente Perché altrimenti quel pecca lì butta giù la torre Butta, butta lo di scelettrini, perfetto Adesso quello lì è morto E muore anche il gigante Non dirmi che, non dirmi che vado dall'altra parte Butta il bomba rollo, dai, a difendere Difendi il bomba rollo, difendi, difendi Ma cavolio lo è dovuto scartare, qui attenzione Oh mamma dai dai, il bomba rollo è morto No no, perfetto, perfetto Gigante, gigante, gigante Perfetto, bravo, bravo Lui ha messo il moschettiere a difendere Metti, buttagli la fireball a quel moschettiere Ma più avanti Cosa, adesso avanza, vedi Eh, io l'avrei messo più avanti però Perché colpiva anche la torre così Vabbè, vabbè, dato c'è il bomba rollo Ok, aspetta un attimo Aspetta, con calma Metti il mini pecca dall'altra parte Prima, e adesso è l'ordano a difendere L'ordano a difendere, perfetto Metti anche il bomba rollo a difendere Ottimo, è sempre troppo avanti Eh, troppo avanti Troppo avanti, eh, non ce la fai Mi dispiace, mi dispiace Mi sa che non ce la fai Eh, c'è troppo casino Non lo so Perché te la ridi Perché è il primo attacco che faccio Scusami Perché te la ridi Rinegan vite Vai ragazzi No, no, no Di nuovo Rivincita Rivincita Ok, rivista ragazzi Scusate ragazzi È finita la webcam già da un po' Non so quando Comunque teniamo solo l'audio Non importa Eh, ma no Non posso Perché? Perché si mettono poi a posto nostro lì Noi due così Sì È finita la webcam ragazzi Rinegan Vai Guarda Ma guarda che c'è qualcosa che non va nel wireless comunque Perché? Perché si è impallato tutto quanto Ma che qua si era impallato Bene, Rinegan ha iniziato la nuova partita E scusate se non ci vedete più la Facebook Ma è finita la batteria della Della GoPro quindi non riusciamo più a filmare Ma non importa perché Rinegan si è espresso Vuola fare un'altra partita Esatto, si fa E si fa Metti il mini pekka Il mini pekka Sì il mini pekka a tancare Bravo Guarda Oddio Oddio Palla infuocata Si 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 Perfetto Eh, però il mini pekka è morto Il mini pekka è morto Dai 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 Almeno dai due colpi col moschettiere scemoli Ok perfetto No, non ce la fa Allora per difendere metti Non ho dei scheletrini Si Dall'altra parte io metterò Oh Ho sbagliato Ho sbagliato Dai gigante Aspetta Aspetta Oh Ha sprecato troppa roba Metto il gigante Ok metti subito dietro gli arcieri Gli arcieri sembrano scarsi Ma hanno stato a valutarli All'inizio soprattutto No perché colpiscono dalla distanza Quindi lascio nel tempo All'inizio Dai 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 Perché il mio arciere è stato nel là Boh non importa Il tuo arciere è un ancio subacqueo Ok Metto No 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 Ferma fermo va giù quella torre Ma voglio buttare giù con la centrale Va giù, va giù con la torre Ma il giocatore muore adesso Lui difenderà, metti il mini pecca Ok perfetto, adesso cavaliere contro cavaliere Ok perfetto Adesso torna colpendo Il problema che colpisca il mini pecca Il cavaliere, guarda che roba Spacca attenzione Spacca il mini pecca dai Dai cavaliere, no mi sa che non ce la fa quel cavaliere Di poco Però attenzione Se la giochi bene riesci a buttare subito La torre, butta il gigante Mette subito anche Gli arcieri Anzi no, fermo, aspetta un attimo Cado via il gigante per gli arcieri Perché sennò si metterà a colpire Ah cavolazzi, mercoledì Tira la fireball Bene così Ci sta così muore quel bombarolo Perfetto, dai gigante con un colpo Perfetto, bravo Ha tristellato il nemico Adesso apriamo la cesta gratuita Esatto La cesta gratuita Dove troverò il drago Vai baule apri Omaggio Se trovi il drago mi incazzo Trovo il drago Drago Gemme Drago Goblin Drago Frecce Drago E cavaliere Bene ragazzi, se vi vi è piaciuto Scusate per la facecam Cliccate a me e mi piace Ciao a tutti E al prossimo video di Ray Rinegam su Clash Royale Grazie 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 Grazie